Visto che non mi risponde ci sono andato io da Porzio, di persona. Allora eccomi a Salerno. E sto pure fortunato perché è qui, qui davanti a me. Henry, allora stupiscimi con una pizza perché sono 30 anni che mangio pizza e nessuna mi sorprende più. Crema di ricotta e burrata nel cornicione. Il ragù con le polpettine caldo caldo. La cottura lenta, docile, ma è aggressiva. Un bel boccone di bufala. Pioggia di cacio ricotta cilentana. Basilico fresco. Olio delle colline salernitane. Profumo eccezionale. Sapore che non vi dico. Dimmi com'è, dimmi com'è. È eccezionale. Ricorda le domeniche a casa dei nonni. Vaiù. È proprio vero. Pururraù. Sada sadefano.